Il Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo scorso ha approvato all'unanimità la legge disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso presentata dai gruppi consigliari di centro-sinistra in regione. Si tratta di un risultato importante per l'Abruzzo, sostiene il PD, che non aveva una legge a riguardo ed è importante che l'abbiano approvata tutti i componenti del Consiglio perché vuol dire che è stata compresa ed apprezzata e che si è lavorato nell'interesse dei due bacini montani che la potranno utilizzare. Ascoltiamo il Consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Blasioli. Tanto nasce dalla riscoperta di un sentiero dei minatori portato avanti col comune di Letto Manoppello. Da lì l'idea appunto di una legge regionale, l'Abruzzo non era dotata, per il recupero funzionale di tutto il patrimonio minerario dismesso, che non riguarda soltanto la parte settentrionale della Maiella, ma riguarda anche l'Aquilano. 40 sono le miniere dismesse della nostra regione Abruzzo che possono tornare ad essere un'importante occasione di lavoro. Se in passato erano il lavoro faticoso di tante donne, perché tante donne andavano in miniera e tanti uomini, in futuro possono essere un'occasione di turismo slow, open air, da portare avanti in questi paesi. Per questo c'era bisogno di un progetto di legge che è stato sottoscritto da tutti i gruppi del centro-sinistra presenti in regione ed è stato votato giovedì all'unanimità del Consiglio regionale, che significa anche un riconoscimento di una legge di cui c'era molto bisogno e di una legge buona per il turismo abruzzese.